buongiorno storimanti benvenuti dunque cosa facciamo oggi oggi vi presento una piccola anteprima di quello che è stato un lavoro di storytelling di costruzione di un racconto a partire da uno spunto uno spunto che è venuto dalla chat infatti se vi ricordate per chi ci segue su telegram un po di tempo fa ho chiesto ai nostri iscritti di darmi tre parole e di cui due sostantivi un sostantivo un aggettivo e un verbo e li ho lasciati così in sospeso nell'attesa di sapere per quale motivo ho voluto queste queste tre parole ebbene le ho volute per scriverci un racconto vi presento una prima scena di questo primo racconto mentre il racconto completo con tutta la registrazione della sua stesura verrà invece riservato ai nostri arcimanti dunque la scena la vedete tutta a schermo è molto breve è proprio la scena l'incipit e cominciamo dunque lo spunto è questo che vedete alla prima riga fragola abbaiare riposato questo è lo spunto del nostro utente mero e da qui ho cominciato che cosa ho fatto ho iniziato a stendere un soggetto imperfetto questo qui che vedete alla seconda la terza riga dunque che cos'è un soggetto imperfetto è un primissimo concept che introduce un soggetto quindi daniele stressato dal troppo lavoro e travolto dai problemi della vita un mondo nel quale un setting potremmo chiamarlo un ambiente un contesto nel quale il nostro personaggio il nostro soggetto agisce quindi in terra lontane e un modo in cui il soggetto interagisce con questo setting con questa ambientazione il nostro daniele decide di intraprendere un viaggio in terre lontane per ritrovare se stesso questo è un soggetto abbastanza primitivo ci sono maniere più complesse di costruire il soggetto di un'opera ma in questo caso noi volevamo creare semplicemente un breve racconto e di conseguenza non avevamo necessità di scrivere soggetti troppo complicati quindi mi sono fermato al soggetto imperfetto ebbene la prima scena iniziamo a leggere questa scena e poi vediamo un attimino di dare alcune piccole indicazioni questa vuole essere semplicemente una una pillola è un'anteprima qualcosa per mostrare alcuni dietro scena della stesura di un potenziale racconto dunque chihuahua daniele aprì gli occhi sul vecchio portatile ripeto l'aeromobile in procinto di atterrare all'aeroporto internazionale di chihuahua si prega di allacciare le cinture di sicurezza e di porre il sedile in posizione verticale la temperatura esterna e di si assicurò che la cintura fosse ancora ben stretta per scrupolo non per altro e chiuso il portatile sollevò la tenda del finestrino e la luce gli fece subito richiudere gli occhi la riabbassò con una smorfia e si controllò il cellulare erano le 14 15 aveva dormito quasi quattro ore con un paio di sobbalzi l'aereo atterrò e si fermò davanti al terminale come di consueto non mancò l'applauso daniele sollevò gli occhi esasperato ci facciamo sempre riconoscere dunque che cosa succede dobbiamo prendere il nostro daniele e lo dobbiamo far viaggiare in terre lontane quindi noi sappiamo che c'entra un abbaiare non c'entra solo per questo ovviamente ma ho ripreso diciamo il concetto e abbiamo deciso terre lontane dove in messico dove c'è il deserto del chihuahua con un aeroporto internazionale presso la città di chihuahua che si chiama aeroporto internazionale di chihuahua e fino a qui non c'è problema perfetto quindi il nostro daniele va in messico e ci va in aereo ora non è necessario raccontare il viaggio non è necessario raccontare di come va in aeroporto di come si sveglia la mattina noi interessa far vedere che sta arrivando in questo benedetto aeroporto di conseguenza sapendo anche che daniele molto stressato e molto stanco perché è stressato dal troppo lavoro quindi lavora tanto si stanca e quindi verosimilmente c'ha rabbiocco daniele dorme molto bene dunque abbiamo avuto un piccolo problema tecnico ma adesso dovrebbe essere tutto a posto perfetto lì lo schermino qui lo possiamo anche serenamente spostare perché che ci frega tanto il soggetto l'abbiamo visto prima dunque dicevamo noi dobbiamo far arrivare il nostro daniele lo dobbiamo far arrivare in messico ma il viaggio è estremamente lungo quindi quindi non facciamo vedere il nostro viaggio lo facciamo addormentare e lo svegliamo con l'annuncio dell'arrivo quindi plim plon il capitano del volo annuncia che si sta arrivando c'è la prima chiamata che viene persa perché daniele è intontito parastella si è addormentato e siccome si è addormentato per il troppo lavoro ovviamente si è addormentato col portatile davanti sul quale lavora sempre quindi ha un vecchio portatile qui c'è l'annuncio l'annuncio che ci viene a specificare dove stiamo atterrando e riporta i classici le classiche indicazioni da capitano insomma quando si annuncia l'atterraggio quindi il nostro daniele reagisce abbiamo quindi uno stimolo che arriva dall'esterno arriva dal capitano e una reazione del nostro protagonista ricordiamoci della action behavior unit che è una cosa molto importante a livello di storytelling cioè è un'unità di testo in cui c'è un evento o comunque un comportamento qualcosa che suscita una reazione ebbene qui diciamo che daniele si allaccia le cinture per scrupolo questo ci dà una piccola indicazione sul carattere di daniele ok è una persona precisa è una persona che segue le regole è una persona forse un po' ansiosa e in effetti non stupisce o vorrebbe appunto insinuare il personaggio di questo daniele che lavora tantissimo è super dedito al lavoro ed è travolta dai suoi problemi insomma daniele cosa fa chiude il portatile siccome dormiva dormiva con la tendina del finestrino chiusa la apre di nuovo action behavior behavior reaction unit il behavior è il suo alzare la tenda dell'oblò del finestrino dell'aeromobile e è quello di chiudere gli occhi invece è la sua reaction è la sua reazione ora diamo un'altra piccola indicazione che ore sono c'è luce ma esattamente che ore sono bene sono le 14 15 come fa a saperlo lo scopre controllando il cellulare ok quindi noi semplicemente non diciamo non raccontiamo che ore sono perché c'è il padre eterno che ce lo dice ma lo scopriamo insieme al personaggio attraverso una piccola azione dello stesso il nostro personaggio guarda il cellulare si spera messo in modalità aereo e guarda l'orologio che segna le 14 15 da qui una riflessione che si ritiene implicitamente dello stesso personaggio quindi ho dormito quattro ore sono passate quattro ore si è addormentato verso le 10 e un quarto benissimo l'aereo a terra con i soliti sobbalzi all'arrivo proprio l'aggancio con il suolo e c'è una nota di colore noi sappiamo che il pubblico applaude e questa è una piccola noticina che ci informa attraverso un evento è un elemento del comportamento di chi accompagna il protagonista quindi un evento che avviene nel mondo della narrazione nel mondo narrativo e noi scopriamo che gli altri passeggeri e quindi il volo sono italiani perché c'è l'applauso finale ovviamente con annessa finale reazione del protagonista che alza gli occhi al cielo e dice mannaggia ci facciamo sempre riconoscere un piccolo intermezzo dovuto a un secondo crash del programma di videoscrittura ma noi siamo indefessi e non ci lasciamo scoraggiare dunque in questo spazio avrei semplicemente detto come mai questa scena ebbene perché le scene che noi mettiamo in scena sono quelle importanti per la vicenda cioè per la trama se non portano avanti la trama noi non le scriviamo non servono a niente a nulla ci sarebbe servito raccontare la mattinata di daniele a nulla la sua fila in coda al gate dell'aeroporto a nulla il suo sogno prima di svegliarsi quello che ci serve è vederlo svegliarsi all'atterraggio perché in questo modo noi possiamo dire che sta atterrando dove sta atterrando quando sta atterrando io vi restituisco il resto del video e sì noterete che ho spostato di nuovo la webcam perché è stata una sciocchezza metterla in alto a sinistra perfetto ma si impara si impara sempre riprendiamo dunque io direi che questo è tutto ci sono stati alcuni impicci tecnici sul funzionamento di word che ogni tanto ho deciso di saltare quindi diciamo che chiudiamo qui io spero che questa cosa vi abbia potuto dare qualche qualche piccolo insight ovviamente c'è di più e si potrebbe dire di più ma per il momento ci fermiamo qui ci saranno nuovi racconti ci saranno nuove pillole ci saranno nuove registrazioni integrali per gli arcimanti e quindi state sintonizzati ciao grazie